Salve a tutti ragazzi, Better Red Mission, io sono Genem e oggi siamo tornati su Fortnite.io E lo so, farò sempre il clickbait con le copertine di Fortnite Come potete vedere sono le 16.27 e mi sto riducendo all'ultimo momento per registrare i video che caricherò durante le vacanze Praticamente questa modalità nuova che hanno aggiunto su Zombies Royale si chiama Weapons Race Praticamente è tipo un gun game, ogni due kill cambia arma Il problema di base è che qua fottono le kill come niente E' molto difficile avanzare, ne faremo due oggi, il mio record è 30 kill Arrivo sempre a 33 kill e poi non riesco ad andare avanti Vabbè questo era fermo, ne approfitto Ok Conincio un po' alla cara Ok, eliminato Eh raga Eh team Salve Sfm Ok, approfitto Uh, è responato Un po' di pistola Eh vabbè Buongiorno Non capisco che voleva fare questo, vabbè Eh, la digola è molto difficile da utilizzare Questo è trasponato Questo è trasponato Guardate manco colpo Entrano Ok Entrato L'unica quando è la digola è fregare da kill oppure ammazzare quelli fermi Perché è difficilissimo da utilizzare E' un po' questo Ok Eh vabbè Mezzo a 2, 1 l'ho ucciso Una kill fregata Troppo forte Vai 12 kill Vabbè dai, buono Tutti ora sono spawnati Tutti ora sono spawnati Comunque ragazzi davvero dopo le 30 kill Diventa difficilissimo il gioco Oh, ne ho ammazzato un a caso Boh Ne ho ammazzato un a caso Va bene, mi fa piacere eh Ok, una kill fregata Tantissimo Ninja 2 Ragazzi questo giocherà da un'ora almeno Perché c'era pure mentre giocavo con Matteo E' la stessa persona Buongiorno Ok, fa un po' quello Bello Buongiorno Moriiii Ok, fatto Comunque ragazzi Per questo video è tutto Io spero che vi sia piaciuto Se fosse così Vi invito a lasciare un mi piace Se questo vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto Comentate questo su iscrivetevi Qualsiasi cosa Se volete condivete A noi ci vediamo al prossimo video Ciao